No, no, parlavo con i colleghi. Ah, no, pensavo fosse rivolto a me. No, perfetto. Allora. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Inizio all'inizio. Inizio io. Cose particolari non ci sono. Io ho visto buonissime intenzioni, ho visto grandissima disponibilità a rimettere a posto quello che può venire fuori da una sconfitta del genere, nel senso che poi la pesantezza dei duelli, degli scontri, quando tu esci sconfitto, fanno ancora più male. Per cui ci sono molte botte da rimettere a posto, da vedere poi che fine hanno. ad esempio, non so, l'avete visto anche in televisione, Edin aveva preso questo calcio, poi aveva preso questa botta in faccia, ci sono poi altri contrasti dove i giocatori sono venuti fuori un po' malconci, però di infortuni veri e propri per il momento non se ne ha il sentore. Ecco, è chiaro che l'allenamento di oggi diventa poi fondamentale per andare a vedere se le sensazioni che abbiamo avuto sono giuste oppure no. Però è così. Poi non ci sono situazioni, insomma, di cui bisogna parlare in maniera approfondita. Se non c'è qualcosa che sembra a voi, per me va bene così. Iniziamo con le domande. Inizia Giannini, Roma Radio. Buongiorno mister. Si torna in campo due giorni dopo l'eliminazione in Coppa. Visto il poco tempo a disposizione, può essere complicato ridare subito motivazioni ai ragazzi? Secondo me bisogna essere obiettivi, nel senso bisogna raccontarsi sempre la verità, dire sempre quello che si pensa. Bisogna confrontarsi, bisogna essere realisti e bisogna analizzare quello che è successo. È una di quelle partite, quella che abbiamo giocato, oppure il giorno successivo, ieri mattina, uno di quei giorni dove ti alzi e hai la sensazione di non avere niente in mano, di aver perso tutto, di avere il dubbio se accendere la lucina quando vai in bagno oppure no, di rimanere al buio perché dice poi mi guardo e di non avere quasi più niente in mano in quel momento lì del risveglio la mattina dopo perché è una sconfitta che ti dà fastidio, ecco, che brucia. Però poi, come ho detto prima, bisogna analizzare nella maniera corretta la cosa e tu vai a vedere poi, tu ti rendi conto che la partita ha detto che poi in realtà c'hai tutto, c'hai tutto in mano perché la prestazione è quella lì, che l'asticella delle possibilità della tua squadra sono quelle lì che sono possibilità importanti, che sono possibilità belle perché è vero che ti viene a mancare questa competizione di grande spessore e di grande livello però è stata determinata da una partita che tu avevi meritato perché i giocatori, i calciatori, i professionisti della Roma l'avevano meritata. Quella è la partita che io volevo che avessero giocato e l'hanno giocata, l'hanno fatta bene. Poi viene fuori anche di questi risultati che ti lasciano naturalmente senza fiato perché ti lasciano senza fiato però poi i discorsi devono essere fatti devono essere fatti corretti insomma, ecco. Questo è il livello di calcio che noi si può giocare soprattutto una partita giocata contro una squadra forte come quella lì perché quella è una squadra forte cioè se fai 25 tiri in porta che è un record cioè è segno che la squadra ha fatto veramente bene poi ha concesso qualcosa nel finale dove forse ci siamo fatti prendere un po' troppo dal da quello che poteva essere il tempo restante perché abbiamo perso qualche pallone dove loro ci hanno fatto delle ripartenze determinati proprio dal dal tempo mancante quella perdita di palloni lì io leggevo però questo non è da da costare nel senso che può essere un dato faccio per dire il Barcellona ha vinto l'ultima partita con sei gol ha fatto meno tiri in porta della Roma ha fatto una ventina di tiri in porta una partita dominata è stata sempre di là si va a vedere per cui che cosa dici dici che i tuoi giocatori hanno sbagliato no non dico niente dico per fare un confronto numerico che 25 tiri in porta sono veramente tanti che ha fatto la squadra e dico che che sono stati bravi e io mi mi auspico che poi anche le prossime partite rifacciano così bene come hanno fatto in quella partita lì perché perché se loro giocheranno di queste partite porteremo a casa ancora tante vittorie e probabilmente rimarremo un'altra volta in Europa che è quello poi la sostanza vera dei fatti che tu una partita la puoi perdere l'anno dopo nella successione o nella difficoltà delle tante partite giocate ti riproponi e ti fai vedere che ci sei ancora e che sei uno forte mentalmente a a saper sopperire anche a dei momenti di difficoltà come come hanno tutti e come ci saranno sempre nel calcio in un campionato duro come il nostro questa in sintesi è l'analisi che è venuta fuori poi quando ci siamo parlati perché i giocatori guardandoli hanno la sensazione di aver perso tutto quando tu gli sei davanti dentro lo spogliatoio e poi però l'analisi è stata è stata corretta e noi si tenta di riessere quelli lì anche domani sera non sarà facile però la testa dei giocatori lo vedo sempre lo sguardo per esempio ieri molti calciatori hanno fatto fuori subito il defaticante mentre se c'è una partita così aspra come importante come questa non ce la fai a riportarli fuori sono voluti uscire a fare il defaticante invece di rimanere dentro soltanto in piscina e oggi nel diciamo nel nel giro telefonico del dottore che lui fa sempre non c'è nessuno che rimane che rimane dentro che ha bisogno di recuperare viene fatto fuori tutto l'allenamento che loro vogliano fare sono sono particolari importantissimi dettagli fondamentali per avere a che fare con dei ragazzi di spessore di livello qualitativo professionale è proprio umano umano per il ruolo che hanno avendo alle spalle come si dice sempre una città come Roma e una tifoseria come quella della Roma Vito Colonna Roma TV Buongiorno mister invece voglio parlare del prossimo avversario un soggizio sul Sassuolo su una stagione forse al di sotto le aspettative dopo il sesto posto dell'anno scorso ovviamente anche sul tecnico che conosci molto bene Di Francesco Sì no allora loro sono prima di tutto Di Francesco e lo conoscete meglio di me per cui diventa facile dire che è un ragazzo serio un ragazzo eccezionale un professionista di assoluta qualità sotto tutti gli aspetti l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato al di là di quello che era poi la previsione iniziale quest'anno ha avuto un momento dove è stato un po' in difficoltà però ha una squadra forte alle mani secondo me quello che è successo quest'anno è un po' una cosa normale è anche un po' una cosa che viene determinata proprio da quello è stata la qualità che hanno espresso l'anno scorso capisci? cioè non è facile poi una squadra come il Sassuolo tenerla a quei livelli lì arrivare in Europa ci sono anche gli altri lo stesso discorso vale anche per noi e per cui ci può stare che abbiano questo momento dove le cose non vanno tutte al punto giusto però hanno dei giocatori forti hanno effettivamente giocatori che abbiamo guardato anche noi come De Frel hanno Berardi che è assolutamente un giocatore di grandissima prospettiva un nazionale hanno dei nazionali hanno hanno un gioco di squadra perché loro anche perdendo delle partite evidenziano di avere un gioco di squadra di avere un modo di lavorare dove un modo di giocare dove hanno lavorato per due anni portando avanti sempre lo stesso lo stesso disegno tattico lo stesso disegno di di qualità perché è una squadra che che ha un gioco una una vocazione offensiva di vedere il calcio insomma è una squadra che che ha fraseggio che ha verticalizzazione è una squadra forte momento dove non stanno evidenziando tutte le loro qualità ma squadra forte Passo lo ha fatto anche Genesio del Lione le chiedo se loro hanno dei margini di miglioramento come si migliorano in autorevolezza di possesso palla e eventualmente nel frattempo cosa deve fare un allenatore per dare qualità al possesso palla anche perché da qui alla fine di maggio tante altre squadre verranno a chiudersi e ci sarà bisogno di qualità nel possesso secondo me ci sono ci sono degli spunti corretti in quello che poi la domanda che fai degli spunti di confronto di dialogo nel senso che spesso quando poi si va a parlare di comandare la partita si vede che le squadre forti e tu devi andare di là a farla si vede che le squadre forti cominciano da dietro la priorità ora le squadre forti cercano il portiere che sa giocare con i piedi faccio per dire il Barcellona non vorrei sbagliarmi ha tirato dietro Mascherano perché è sempre giocato a centrocampo perché noi ogni tanto si è parlato di De Rossi a metterlo sulla linea difensiva proprio questo discorso qui è un discorso giusto una delle squadre che lo fa meglio di tutti di far fare registi ai centrali difensivi è il Napoli e la Juventus dove ha faccio per dire Bonucci dove inizia sempre l'azione lui noi qualche cosa sotto questo aspetto dobbiamo migliorare anche se Rudiger secondo me lo sa fare Fazio lo sa fare Juan Jesus lo sa fare però un saperlo fare dove si può migliorare e che vuol dire che si può migliorare che noi non abbiamo avuto il tempo per lavorare su questi che ci voleva per essere poi al top noi abbiamo dei margini di miglioramento paurosi perché voi ogni tanto come oggi leggo un'analisi generale che dopo se ne riparla un attimo per per andarci un po' dentro dove dove è parziale poi quello che è questo tipo di analisi non è a 360 gradi che io prendo per spunto quello che ha detto Paolo ora e dico che tempo ho avuto io per lavorare su questi qui per essere ora a livello di altri club e poi allora si va dentro una una lettura più approfondita e più corretta e si vede che Rudiger durante la preparazione si è fatto male e non si è mai avuto che Fazio è arrivato una settimana prima di cominciare il campionato Vermeilen è arrivato Perez è arrivato il giorno prima di cominciare il campionato Juan Jesus una settimana prima o giù di lì che iniziasse il campionato ce l'ho tutte le date a Pinzolo sì l'ultimi giorni di Pinzolo Juan Jesus è uno dei primi che è arrivato sì a Pinzolo ce l'ho scritto di là perché poi ogni tanto mi appunto quelle che sono le situazioni soprattutto gli infortunati Mario Ruiz è fatto male poi tu rimetti dentro questi giocatori tu devi vederli tu devi pensare a come andare poi a lavorarci e secondo me un po' di tempo in quel periodo lì iniziale dove siamo stati un po' in difficoltà in qualche risultato e si è preso qualche gol di troppo che giustamente voi ci avete fatto notare però insomma da un punto di vista di possibilità di lavoro non c'erano ora per esempio la difesa è tutta un'altra perché passato un po' di tempo dici allora ci sei lavorato ci sei lavorato poco lo stesso perché poi quando le partite sono così ravvicinate non ti alleni tu ti alleni a livello singolo dove puoi fare puoi dare delle indicazioni e puoi far vedere tu vai dentro e tu gli fai fare le stesse cose ai giocatori che ci vorrebbero però se non fai 10 contro 10 se non trovi la situazione reale dove ci sono distanze dove ci sono un numero di giocatori reparti dove c'è ritmo perché oggi noi non possiamo fare un allenamento dove il ritmo è altissimo Alberto De Rossi è disponibilissimo e ci manda sempre gente a fare poi l'allenamento con noi una delle cose sarebbe prendere una squadra del settore giovanile e quelli che non hanno giocato fatti giocare contro allora anche quelli quelli che sono stati a riposo li puoi mettere dentro una situazione reale dove si può andare a alzare il livello di qualità di allenamento se no è sempre un allenamento che gli manca qualcosa io per esempio l'altra sera la difesa l'ho vista perfetta in alcuni momenti abbiamo fatto il 3 contro 3 però in tre posizioni diverse mentre doveva essere un 3 contro 3 reparto contro reparto e quello dovevamo determinarlo noi qui andrebbe fatto vedere per far capire bene quello che voglio dire però è così cioè siamo stati 30 metri più su complessivamente come squadra li siamo saltati addosso sempre abbiamo soffocato qualsiasi tentativo di ripartenza se non qualche volta e siamo stati costretti a ritornare poi dentro l'area di rigore poche volte quasi un niente per il tipo di partita e per il tipo di giocatori che avevamo davanti noi non siamo stati bravi in quel secondo tempo lì andando poi a tirare in ballo un discorso complessivo di questa qualificazione però abbiamo fatto bene tante cose e questo livello di qualità del comandare noi del partire da dietro con la palla è un discorso che ti ci vuole tempo il discorso che ti ci vuole tempo e che bisogna tu faccia fare che bisogna tu faccia rendere conto dei giocatori che bisogna tu li faccia esercitare nella situazione reale che secondo me ora soprattutto dopo averci lavorato un po' si vede la differenza di quando siamo partiti a giugno a ora perché è così poi naturalmente ci sono quelli che non le vogliono vedere e continuano a rimanere della propria idea però questa domanda è una domanda corretta che è giusta cioè è lì che sì perché poi i registi difensivi lo fanno i registi della squadra lo fanno i difensori centrali che arrivano fino a centrocampo perché quegli altri si schiacciano tutti nella loro metà campo in qualche momento dove li avevamo costretti ad essere schiacciatissimi come linea difensiva e 4 di centrocampo perché loro ci venivano ad attaccare 4-4-2 o 4-4-1-1 dovevamo andare su queste palle in diagonale sul quinto verso la bandierina che andava oltre il terzino qualche volta dietro la punta lì ci siamo andati meno di quello che bisognava fare però poi il resto l'abbiamo fatto bene l'inizio dell'azione l'abbiamo fatta bene ma è sicuramente una chiave per il futuro e per quanto riguarda la qualità del gioco della Roma ecco Stoppini Gazzetta dello Sport eccoci volevo chiederle cos'è cambiato come è cambiato lei nell'ultimo mese mese e mezzo siamo passati dallo Spalletti che diceva parlava di ossessione della vittoria fino a un mese fa un mese e mezzo fa a quello che giovedì sera insomma ha detto forse ha allargato le braccia forse sono io che porto sfiga volevo capire ora io bisogna che a lei siccome è la seconda volta e ci ritornate che avete fatto anche il titolo bisogna devo dire gli faccio finire la domanda no no era finita cioè volevo capire se è cambiato qualcosa quello che secondo me è il concetto io non sono sfigato perché io ho raggiunto un livello di di vita di professione che poi sia corretto o scorretto il livello è quello lì una sconfitta più una sconfitta meno 60 anni per cui il livello è quello lì e la sfortuna non può togliermi niente se non il risultato una partita il livello è quello lì io spero che questo lo sia anche per te cioè che tu hai che tu hai raggiunto un livello professionale dove la fortuna o la sfortuna non ti determinano niente a me la sfiga o la sfortuna non mi può determinare niente in peggio di quello che ho raggiunto spero che a te la fortuna ti possa determinare qualcosa di più di quello che hai raggiunto questo poi si starà a vedere no ma io parlavo semplicemente semplicemente di un'impressione che lei aveva lasciato determinazione inferiore rispetto a a un mese fa un mese e mezzo fa ecco tutto qui con questa dichiarazione cioè non non mettevo in discussione i risultati la sfiga è che tutti si parla degli episodi è un modo di dire così vuol dire perché poi ci sono 25 gol io ho detto in questa maniera ma mi ci fai l'articolo con il titolo scegli quello poi oggi mi ci ribadisci io sono fortunatissimo io non non posso essere sfigato professionalmente ho raggiunto quel livello lì tu capisci quello che voglio dire che che ti piacciono o no i miei risultati sono quelli ormai il tuo risultato è questo spero che la fortuna ti possa dare qualcosa nel senso che o è che la sfortuna non ti possa togliere niente io sono a posto insomma ecco a me la sfortuna non mi può togliere niente secondo me la fortuna e la sfortuna ha una ha una connessione con il sudore ha una connessione con l'impegno e io sudo di molto mi impegno di molto per cui sono fortunatissimo sta tranquillo guarda sono a fare l'allenatore della Roma tu sei a fare le psicoanalisi a me tutti i giorni è un lavoro da sfigato le psicoanalisi a me tutti i giorni te lo dico io non faccio psicoanalisi no no è tutti i giorni vedo come oggi ragazzi vi vedo un tantino in difficoltà io oggi vi vedo un tantino in difficoltà tant'è che oggi avete chiesto anche l'aiuto all'artiglieria pesante avete chiesto l'aiuto all'artiglieria pesante avete avete mandato agenti sotto falso nome a vedere poi che l'una ho oggi in incognito che l'una ho oggi che l'una ieri tanto andavi andavi lì poi non ce l'ho fatta a leggere tutta la rassegna stampa perché erano talmente tanti oggi ma vi prometto che poi durante la settimana mi metto ora io che mi pare oggi non trovo un mio articolo si ma lo so verrai quello che fa l'articolo non viene oggi viene la volta dopo fa l'articolo oggi non tu vieni domani fa l'articolo domani non tu vieni domani l'altro è una cosa che sanno tutti non importa a spiegarla sta tranquillo lo sanno tutti ma ti dicevo come ho detto prima che siete sempre a tentare di vedere che l'una che l'una ho e ad ascoltare chi vi pare per fare poi un'analisi a me a volte invece gli articoli sportivi mi sembrano oroscopi oggi non ce l'ho fatta non ho fatto un tempo ma durante la settimana mi metto un pari li rileggo tutti però io sono una persona fortunatissima io non posso avere sfortuna più ormai io spero che tu possa avere fortuna te punto Dubaldo Corriere dello Sport sì eccomi solo per dire una cosa dalla risposta che hai dato al collega cioè l'hai sfigato era una battuta un momento di eh però l'hai detto te non è che te l'hai detto ho capito però se tu di tutto quello è una partita poi metti risalto questo e oggi ci ritorni e sei lo stesso è segno che ti interessa questo qui e io ti do la spiegazione mia qual è quella che io non posso essere io non sfigato sfigato no lo determina quello che la quello che la la fortuna può darti o quello che la sfortuna può toglierti a me la sfortuna non mi può togliere niente di quello che che è il livello che ho raggiunto ormai la posizione è questa a me posso perdere altre due partite e andare a casa ma rimango Spalletti che su 22.000 tesserati con il tesserino della prima categoria ha allenato 20 anni in serie A voi quanti siete quanti mila siete no faccio per dire il livello che tu hai raggiunto te sì e vedrò se la fortuna poi ti può dare qualcosa o la sfortuna ti può togliere qualcosa io sono appostissimo anche perché come ho detto prima io l'ho spiegato bene ragazzi se c'è bisogno di ridirlo ridio ma siccome tu ci ritorni non ti imparvi Gianni tanto no no sono serenissi io senti è una cosa è una cosa normale di quello che si sta parlando per l'amore siccome vi interessa più quelle che sono sempre le ombre l'umore via dicendo quante volte è uno che vede l'ombre dappertutto quante volte me le hai scritte anche su questo se Gianni mi consente la questione delle ombre quando io ti ho fatto la domanda alla Vigilia di Lione dico come sei cambiato da 10 anni in questa parte ho detto sono peggiorato perché vedo ombre dappertutto io ho scritto quella volta ma io l'ho detto per prendere per il culo te poi se tu se tu lo vuoi prendere per serie lo scrivi sui serio è un problema tuo ma io l'ho detto come te tenti di prendere per il culo me io tento di prendere per il culo te perché te sei contro di me io sono contro di te qual è il problema ma stai tranquillo che che io se voglio allena anche il prossimo anno e il prossimo anno ancora e poi arriva a quei 63 anni o 65 e te tu farai ugualmente o farai giornalisti i prossimi anni spero che come la sfortuna non può togliere niente a me che la fortuna dia di molto a te perché fra i due io pure penso che la fortuna non lo so chi è sfigato poi ecco veramente si hanno i miei che determinano sotto che aspetto sotto l'aspetto della definizione di fortuna o sfortuna e di sfigato e figato il concetto mi pare chiaro possiamo andare avanti con la domanda se tu vuoi allora insistiamo ma me l'hai detto me l'hai detto me l'hai detto te sfigato un balazzolo no io ho detto io ho detto io ho detto che le posizioni le posizioni lo sfigato la determinano lo determina la posizione dove la fortuna ti può dare qualcosa e la sfortuna ti può togliere qualcosa è questa la definizione di sfigato e ti dico io sfigato non posso essere ma nessuno l'ha pensato perché la mia posizione nessuno l'ha detto ma come l'hai mai pensato mi ci hai fatto ma hai fatto te la dichiarazione ma stai zitto perché parlo è lui che ha parlato scusa perché ti prendi ma è tuo è la gazzetta dello sport che me l'ha scritto o no tu hai scandagliato gli agenti segreti oggi per sì quelli sotto falso nome come no è il nome vero non lo so non lo so nemmeno io ragazzi andiamo avanti gli agenti segreti chiamiamoli così non è la sede di fare un dibattito una conferenza stampa e vi interessa questo andiamo su questo e vi interessa questo io volevo parlare di calcio anche oggi non ce l'ho fatta leggili tutti meno male c'è qualche uno che parla di calcio e volevo parlare di calcio come siamo stati per mezz'ora mi ha fatto una domanda di calcio lui mi fa una domanda su come sono io dopo averlo scritto dopo averci ribadito dopo averlo condito perché tu vai a prendere quello nel tuo essere nel tuo essere giornalista di professione e metti il risalto in la osalia oggi me lo ridomandi per cui bisogna mi difenda perché io non sono sfigato e oggi sono serio non è un gioco di parole come a volte si vuol fare ecco come la risposta che ho data a te dell'altro giorno per cui la definizione di poter essere sfigato è quella che ti ho detto se tu vuoi vado più in là fortuna o sfortuna a me me l'ha sempre determinata il mio sudore la mia voglia di andare a lavorare dalla mattina presto fino alla sera tardi e ho sempre fatto così e farò così fino all'ultimo giorno che sono qui io lavorando per il tentativo di lasciare una Roma forte fino all'ultimo giorno è questa quella che è la mia imposizione quella che è la mia ricerca poi naturalmente si rugga un po' ruggate voi con me io ruggo con voi un po' da ultimo mi inviterete a cena venite a 3-2 e si va a casa vabbè qui pure voglio fare una battuta non la faccio parliamo seriamente voglio portarti su un argomento di calcio di politica sportiva cosa ne pensi della possibilità che Lottito diventi il presidente della Lega di B allora guarda io mi diventa difficile già ne preoccupato perché già mi guarda perché sa un po' come la penso su quelle sono state le ultime elezioni che sono avvenute e via dicendo io mi sentivo più dalla parte dei giocatori ma non essendo poi a conoscenza non essendo poi dentro quelle che sono state le trattative la conoscenza di quelli che erano i programmi e via dicendo dopo mi sono rosso conto di quello che è stato il programma di uno il programma dell'altro e via dicendo non sono stato molto d'accordo dopo nella conoscenza delle cose ecco non mi garpa per cui però naturalmente faccio parte della mia associazione e sono stato con la mia associazione ma ora delle cose le ho da chiarire perché quello che è venuto fuori non mi garpa e devo ancora documentarmi però io faccio allenatore io devo fare bene della Roma dicendo voi giustamente fate delle analisi approfondite che che mi costringerebbero anche andare un po' più qua o più là di quella che deve essere la mia strada ma io bisogna rimanere lì come oggi io voglio parlare di calcio insomma e sono anche attrezzato ecco se tu vuoi ti posso dire le presenze di Ricci perché in campionato perché Ricci gioca nel Sassuolo ma si sono fatto così è un giocatore del Sassuolo che è un giocatore forte perché non si è avuto e lo conosco bene oppure delle presenze in Europa League in campionato 20 in campionato 7 in Europa League insomma di queste cose qui se voi volete ci si sta quanto vi pare quello che per me mi disturba sono la differenza dei tiri in porta che si fanno di solito e quello che ha fatto la mia squadra è perché non abbia avuto poi l'esito corretto allora si va a parlare più proprio della convinzione di far male cioè dell'essere forte da un punto di vista mentale di qualità di poter cercare poi la deviazione dove te la metta l'incrocio dei pali ecco costini il tempo buongiorno volevo sapere se per ridare un po' di stimoli motivazioni a questi giocatori che come ha detto insomma si sono sentiti un attimo di aver perso tutto si può pensare al calendario cioè a cavallo della sosta Roma-Sassuolo Roma-Empoli Sampdoria-Juventus Napoli-Juventus c'è un momento questo un ultimo momento per poter sperare anche di ribaltare le cose in campionato cioè c'è questa voglia da parte sua di far credere ai giocatori che è ancora possibile ma guarda poi a me mi è sempre sembrato di essere molto 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 normale quando sono venuto in conferenza stampa nell'analisi molto molto disponibile molto normale nell'andare molto regolare nel trattare sempre tutti i miei colleghi la squadra avversaria le squadre avversarie per cui quando tu va a fare questi discorsi a volte tu sembri anche per lo meno tu va a cercare dentro la squadra si usa qui un po' meno perché però dentro la squadra si usa di trovare dei momenti o dei perché secondo me ora la squadra visto che si è fatto questa precisazione si può dire secondo me è la squadra 4-5 partite dove se fa vedere di essere quella che è stata le può vincere anche tutte 4-5 capisci e se rivinci quelle 4-5 partite dopo sì c'è un altro raggruppamento di gare dove dove ci può stare di tutto e dove hanno la stessa qualità tua e la stessa forza hanno fatto vedere momentanea tua ma in queste 4-5 tu puoi anche andare lì e le voglio vincere tutte e per cui tu glielo dice dopo 4-5 partite gli scenari possono cambiare perché quando tu ci metti 4-5 partite poi gli scenari possono cambiare manca lo strappo finale però poi è la volata se te sei lì nel gruppetto in cima è la volata che conta capito o sei a 5-6 metri a 4-5 metri è la volata che conta o li puoi recuperare negli ultimi 100 se te non ci sei è più difficile per cui alla squadra gli è stato detto che queste 4-5 partite possono determinare la volata poi metti la come ti pare ma se usata come come discorso di possibile scenario proprio per metterci qualche cosa di più capito? non hai capito? mi spiego male stamani mi spiego male ma perché sono nel bus a posto grazie a tutti domani sono nel bus grazie